Sta passando un'idea di un Sud sostanzialmente indenne, che secondo me è una sciocchezza. Il Sud semplicemente sta avendo l'infezione più tardi e con ovviamente una velocità inferiore, perché ci mancherebbe, abbiamo fermato un paese intero, se non si fosse neanche rallentata l'epidemia sarebbe veramente il colmo. Ma il punto chiave è che il Sud non ha i dispositivi di protezione individuale. Avete appena parlato con uno dei più autorevoli rappresentanti dei medici di famiglia, che sono tutti in caserma a non fare niente e a fare solo telefono, perché il telefono ovviamente per noi è importantissimo, perché non hanno i DP, non sono in condizione di far nulla. Quindi è un peccato tenere ferme tutte queste persone in una condizione nella quale tutti i dispositivi di protezione individuale sono concentrati, tutti in determinate aree, ed evidentemente le immagini che noi abbiamo ancora, dispositivi di protezione individuale, massimo per un giorno, un giorno e mezzo. Dopodiché non possiamo neanche più assistere le persone al policlinico di Bari, che è la punta fondamentale. Senza DP i medici di famiglia possono solo lavorare al telefono, perché è evidente che non possiamo mandarli allo sbaraglio, ad infettarsi senza motivo in una condizione difficile. E' necessario inoltre, che per i casi che si complicano, avere i ventilatori che servono a raddoppiare le terapie intensive, perché nella sostanza l'Italia ha dovuto raddoppiare il suo dispositivo. Questo dispositivo precedente non era scarso, non aveva mai creato problemi, noi non abbiamo mai avuto problemi di scarsità di rianimazione, ma questa epidemia richiede il raddoppio. Per fare questo raddoppio la Puglia ha già smontato e rimontato in pochissimi giorni tutti gli ospedali, ma non abbiamo i ventilatori. Tutto l'apparato logistico è concentrato sul nord. Immagini che noi assistiamo a questa ridicola discussione su tamponi per tutti, che è una cosa che non sta in piedi, perché molto semplicemente non ci sono i reagenti per fare i tamponi a più persone. Noi possiamo farne massimo 8-900, perché anche i reagenti sono contingentati e vanno tutti alle regioni del nord. Questa cosa ovviamente significa che bisogna fare una scelta. Capisco che il sud potrebbe cavarsela, non so come, ma potrebbe anche cavarsela con il rallentamento dell'epidemia. Però concentrare proprio tutte le risorse logistiche sul nord potrebbe essere un errore, perché nel momento in cui arriverà qui noi avremo tutto il paese con la Lombardia, l'Emilia e l'Emilia. Scusi, Emiliano, ma è una critica, voglio dire, per esempio, al capo della protezione civile Borrelli, al commissario... No, assolutamente. No, alcuni a chi? Dico solo che in questo momento i DPI sono come gli aerei, le portaerei, sono un elemento strategico delle relazioni internazionali. Sono una materia da servizi segreti, non sono una materia da protezione civile. Qui bisogna avere una capacità politica di interloquire con i capi di Stato del mondo che hanno ancora fabbriche che producono mascherine e, come si è fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, organizzare la logistica. Perché se un paese pensa, come noi stiamo facendo, di risolvere il problema contrabbandando ventilatori e mascherine, io tutta la sera sto utilizzando le mie relazioni internazionali, soprattutto con russi e cinesi, per tentare di acquistare in via parallela rispetto alla protezione civile che non me le fornisce, disposizione di protezione individuale per proteggere i medici di famiglia, il 118, i reparti intensivi, gli infettivi e i medici di medicina generale. Senza parlare poi che anche nei reparti ordinari c'è un pericolo, perché in teoria uno può avere un infarto e questo infarto essere in qualche modo connesso ad una situazione di contagio che poi viene scoperta all'ultimo minuto. Non è che io posso mandare i medici negli ospedali a fare un intervento di emodinamica senza le protezioni individuali. Ci mancherebbe. No, 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 le vere e proprie... Le mascherine... Le mascherine di sanità in casera. Questi dispositivi sono le vere armi di questa guerra, parliamoci chiaro, perché stiamo combattendo con questo nemico così micidioso.